In studi di Gazzetta IT abbiamo Danny Rackett, 19 anni, guardia della Southern California University, una delle grandi speranze della paracanestro italiana. Esagerata la definizione o riduttiva? Ma, direi esagerata. È stata una buona annata, è una bellissima esperienza per me e la sto vivendo ogni secondo come una nuova avventura. Figlio di Rudy, uno dei più apprezzati stranieri del campionato italiano, a cavalgo tra gli anni 70 e 80, sei cresciuto a Pesaro e poi a 15 anni ti sei trasferito a Los Angeles per coltivare i tuoi sogni cestistici. Com'è stato l'impatto? L'impatto è stato duro, è stato duro essere accettati in una nuova realtà e in una nuova nazione. e a volte ho avuto dei problemi a socializzare, però poi col tempo e conoscendo meglio la lingua ho imparato a vivere in questo nuovo paese. Mai nessun giocatore italiano del tuo valore era andato a giocare in un college statunitense? Come mai questa scelta che può sembrare quasi controcorrente in un'epoca in cui gli scout NBA vengono in massa in Europa a cercare giovani leve che giocano nelle leghe europee? Il progetto era quello di provare questa nuova avventura per andare e migliorare fisicamente più che tecnicamente. Ho avuto la fortuna di lavorare in un vivaio Scavolini che aveva degli allenatori di alto livello nazionale e sono andato là con la mentalità di migliorare e diventare un giocatore migliore. A Southern California l'anno prossimo giocherai insieme a O.J. Maio, asso delle scuole superiori a cui tutti prevedono un grande futuro nell'NBA. Sei eccitato? Hai già conosciuto? Che vantaggi pensi potrai avere e potrete avere come squadra dal suo arrivo? Come in ogni squadra penso avere un giocatore di altissimo livello come O.J. sarà un vantaggio per tutti noi. L'entusiasmo che ci sarà sul campus della nostra squadra sarà incredibile. Come persona ci ho parlato parecchie volte ed è un ragazzo tranquillo, è un competitore, vuole vincere un vincente. Ha vinto quasi tutto nella sua carriera di high school e speriamo che abbia un impatto di alto livello con noi e di avere risultati alti. A proposito di fenomeni, nello scorso torneo NCAA hai giocato e vinto contro Texas di Kevin Durant che contenderà a Greg Oden la primissima scelta nel prossimo draft NBA. È davvero così forte? Che emozioni hai provato nel giocare contro di lui? È stato emozionante. Giocare contro un giocatore di così alto livello è un'esperienza. Sono andato a testa bassa, però poi dopo la partita ho provato delle grandi emozioni dopo la vittoria e la prestazione che ho fatto. Però, come ho sempre detto, c'è stato un grande lavoro di squadra dietro la vittoria e ho avuto dei grossi aiuti dai miei compagni e è andata bene alla fine. A Los Angeles ci sono molti giocatori con forti regami italiani. Kobe Bryant, Fascia Vujia, Cicciai Rakers, James Singleton ai Clippers. Vi conosci, vi frequenti? Vi siete mai parlati? Sinceramente no. Ho parlato un paio di volte con James Singleton perché gioca la Summer League a Los Angeles e ho avuto l'opportunità di parlarci un po' e parlare della sua esperienza in Italia-Milano. È un ragazzo tranquillo e mi ha parlato di come fare per alzare il mio livello di gioco. Parliamo di Italia invece. Lunedì sarai a Bari, uno dei 16 convocati di Cano Ricarcati al primo raduno azzurro. Sei emozionato? Beh, certamente. È la prima volta che ho questa opportunità di allenarmi con un gruppo nazionale di Serie A. Quindi spero di andare lì e fare bene in allenamento, giocare duro e giocarmi le mie carte per poi fare questa esperienza che per me è una cosa nuova e spero solo di far bene. Pensi di avere concretamente qualche possibilità di entrare nella squadra azzurra nei 12 che a settembre giocheranno gli europei o ti accontenterai magari di giocare gli europei under 20 in Lettonia-Ruglio? Di accontentarmi non penso. Io vado a Bari e Porto San Giorgio per giocare le mie carte e vedere di far bene. Poi se magari andrà tutto bene avrò la mia opportunità di allenarmi col gruppo che andrà in Spagna, ma sono contento di fare questa esperienza nei primi di giugno e poi di giocare con questa nazionale under 20 che è di alto livello. Tu sei molto legato a Pesaro. Sei stato segnalato nelle semifinali per la promozione della Lega 2 a Rimini in curva con Massimo Ambrosini del Milan che anche lui è di Pesaro a fare il tifo in curva. È vero? Sì, sono cresciuto da ragazzino nella città di Pesaro e ho sempre amato la Scavolini e tuttora seguo su internet ogni tanto in televisione le loro partite e le loro imprese. Quest'anno abbiamo fatto il Lega 2 e sta andando bene. Adesso aspettiamo di vedere contro chi ci incontreremo in finale e speriamo di rivedere la Scavo in Serie A anche perché è una piazza del basket storica. I tifosi meritano veramente di avere questa squadra ai massimi livelli. Quindi tra qualche anno fuga orma di Bargnani in NBA e poi a fine carriera a Pesaro? Vedremo, vedremo come va e per ora sto solo pensando al mio secondo anno a USC e vedremo. L'esperienza che sta facendo Andrea è incredibile, è un sogno di tutti i ragazzini e poi se avrò la fortuna e l'opportunità di giocare a quel livello, bene. Se no spero di avere una buona carriera in Europa e magari un giorno di vestire la maglia della Scavo. Grazie, appuntamento a presto.